Mi piacerebbe molto interpretare il film Le Pagine della Nostra Vita, perché mi è piaciuto molto il rapporto dei due personaggi che nonostante le difficoltà e la differenza di sceto sociale, sono riusciti però ad incontrarsi dopo anni e anni e a realizzare il loro sogno. Questo film mi ha colpito molto perché nella vita se si ha volontà e determinazione si può raggiungere i propri sogni.